Le fasi della seduzione sono essenzialmente tra attrazione, empatia e primo bacio. L'errore che fanno tutti i morti di figa è quello di saltare una di queste tre fasi. Ad esempio, si rifugiano nella friendzone perché credono che diventare amici di una donna permetta loro in qualche modo, prima o poi, di conquistarli. Nulla di più sbagliato. Come sai, le donne cercano un uomo sicuro di sé, un leader, un uomo che sappia davvero quello che vuole, che non si prostra i piedi di una donna. Per cui, se tu diventi amico di una donna, salti appunto una delle tre fasi della seduzione. Se cominci ad essere disponibile, sempre presente, a dire sempre di sì, lei perderà rispetto per te. Davvero credi che prostrarsi ai piedi di una donna funzioni? Con questo non voglio dire che le devi trattare male, perché neanche gli stronzi, come la leggenda narra, hanno successo con le donne. Per conquistare il cuore di una donna, devi farle capire che tu sei un uomo di valore, che non sei disposto a barattare la tua dignità in cambio di qualche attenzione da parte sua. Devi rispettarti, darti valore, amarti. E solo così riuscirai a conquistarla. Solo in questo modo riuscirai ad avere un rapporto alla pari con lei. Ma finché ti comporterai così, lasciatelo dire, da sfigato, lei perderà rispetto per te. Quello che devi fare è lavorare sulla tua dignità, la tua forza di carattere. E come farlo? Non essendo sempre così tanto disponibile a condiscendente. Ogni tanto devi imparare a dire la parola no. E devi avere sempre il coraggio e la forza di dire la tua. Se non sei d'accordo con lei, ebbene, devi semplicemente dirglielo. Non ci vuole un genio, ci vogliono solo un po' di palle. Le hai perse? Come che cosa? Le palle. Se vuoi ritrovarle, il mio nuovo libro è La Soluzione. Il Gentleman Seduttore. Trovi il link qui sotto. Ti chiederai adesso come sviluppare una personalità che ti faccia uscire finalmente dalla friendzone. Te lo spiego in pochi semplici passi. Avevate la mia curiosità, ma ora avete la mia attenzione. Inizia a lavorare sulla tua autostima. Focalizzati sul tuo valore personale. E soprattutto rispettati e fatti rispettare. Con questo non voglio dire che devi battere i pugni sul petto come un gorilla e attaccare briga con tutti. Devi sviluppare assertività, ovvero la capacità di dire quello che pensi. difendere le tue idee e di non scendere a compromessi solo per farti accettare dagli altri. Le donne vengono attirate da quel tipo di uomini che le contraddicono ogni tanto. Ovviamente non devi passare tutto il tempo a farla sentire una perfetta idiota. Ma quando è il momento, devi tirare fuori le palle e dire no. Far vedere che sai esattamente quello che vuoi e che sei un uomo che non scende a compromessi. Questo farà tutta la differenza del mondo. E poi amati. Inizia a guardare te stesso come una persona di valore e non confrontarti di continuo con gli altri pensando che non sei all'altezza. Inizia a pensare piuttosto a tutte le difficoltà e tutte le imprese che hai superato. E ti posso garantire che se le scrivi tutte su un foglio capirai che poi così tanto sfigato non sei. Inoltre curati sia a livello mentale che fisico. Dedica del tempo a te stesso, alle tue passioni. Questo ti permetterà di migliorare la tua sicurezza, la tua autostima e l'idea che hai di te stesso. Per cui ricordati, lavora sulla tua autostima, fatti rispettare, ama te stesso e curati a livello mentale e fisico. Come vedi, la soluzione migliore rimane sempre quella di lavorare su se stesso. Parti da questo e la tua strada sarà tutta in discesa. Ma che gli farai mai alle donne tu? Eh sì, lo so.